Salvini di parola, lei Salvini di parola, lei era per la Padania e poi è diventato il più grande nazionalista. Lei ha iniziato comunista padano a Leoncavallo e è finito con quelli di Casa Pound di destra. Lei tifava contro l'Italia nel 2000 e nel 2006, faceva il radiocranista per Radio Padania, esultava i gol della Francia, per di più la Francia, penso un po' a lei, contro l'Italia. Immagino che se lei fosse di parola oggi avrà tifato per il Liechtenstein. Lei ha cantato, senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. Lei ha detto di Di Maio le cose più incredibili, salvo poi offrirgli di fare il presidente del Consiglio. Uomo di parola Salvini.